Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questo video sarà in collaborazione con il gruppo The Color of YouTube. Il titolo è Le donne in estate. Allora, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che sotto al video nell'info box lascerò il link di tutte le ragazze che partecipano a questa bellissima collaborazione. Vi raccomando di iscrivervi anche ai loro canali e di vedere i loro video perché veramente non ve ne pentirete, sono tutte ragazze dolcissime e bravissime. Allora, andiamo a vedere insieme cosa ho acquistato per quest'estate. Allora, per prima cosa ho acquistato queste ciabatte da utilizzare sia al mare che in piscina. Sono della marca AXA e sono taglia 40. Anche se porto la 39 ho preferito, visto che la pianta qua è un pochettino stretta, ho preferito di prendere un numero in più. Che poi alla fine, essendo pure di gomma, magari per calzarli un po' più larghi, ho preferito prenderli più grandi. Faccio vedere anche sotto come sono fatte. Sono, diciamo, di questo colore viola. Non so se dalla telecamera sembrano un po' più su blu, però sono viola. Sono molto carine. Io le ho pagate 3,50 euro. Poi, il secondo acquisto che ho fatto è questo qua, ed è un costume. L'ho preso sul sito Zoom. Magari nell'info box lascerò anche il link per poterlo acquistare. Allora, a me mi è piaciuto molto perché questo costume ha una cosa molto particolare. Adesso ve lo vado a stendere così vi faccio vedere. Allora, come possiamo notare soprattutto sul seno ci sta questa stoffa che in pratica va a coprire le braccia. Vedete? Molto particolare. Però questo 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 pezzo qui non si può togliere. Diciamo, è cucito qui sopra. Poi, all'interno, faccio vedere anche l'interno, ci stanno queste coppette qui, quindi è un po' imbottito, senza il ferretto però. E poi abbiamo queste bretelline regolabili, a nostro piacimento, però si potrebbero anche togliere. Però, secondo me, per chi ha un seno un po' più importante non conviene. Chi ha il seno un po' più piccolo può anche togliere tranquillamente, secondo me. Questo è molto bello perché, diciamo, fa questo effetto particolare sulle braccia, oppure magari per chi non gli piace tanto avere le braccia scoperte. Poi, faccio vedere anche sotto, è uscito questo qua, che poi una volta che va indossato questo qua va eliminato, semplicemente per far capire che è una protezione igienica, che magari uno se vuole mettere, per esempio, un assorbente. L'unica cosa che ho notato però è un pochettino trasparente. Vedete? Si riesce a vedere, diciamo, sotto. Però si può semplicemente indossare sotto magari uno slip nero e quindi risolvere subito il problema. Io l'ho pagato 8 euro sul sito Zoom. L'avevo visto anche su Amazon, però costava molto di più. Che a me piacciono molto questi modelli di costumi che coprono le braccia. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici. Mi raccomando di vedere i video anche delle altre ragazze e noi, come sempre, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e buone estate a tutti! Grazie.